Il Cuneo vuole continuare a stupire e a sorridere. Dopo la splendida vittoria ottenuta all'Euganeo di Padova sette giorni fa, 3-1 il punteggio finale, i Biancorossi vogliono tornare ad esultare anche tra le mura amiche. Proprio sul Prato del Paschiero, infatti, si consumava due settimane orsono l'unico passo falso del Cuneo in questi ultimi due mesi, caratterizzato dalla sconfitta per 2-0 contro la propria Cenza, un iconeo in mezzo ad un impressionante ruolino di 5 vittorie e un pareggio. Serie positiva che ha risollevato i Biancorossi dopo un avvio da incubo, portandoli a navigare nelle tranquille acque di metà classifica. Acqua nelle quali Iacolino e i suoi ragazzi vogliono rimanere. L'occasione per consolidare questa posizione arriverà domani pomeriggio, quando al Paschiero arriverà il lumezzane di mister Giancarlo Dastoli, che in graduatoria segue il Cuneo a tre lunghezze di distanza. Chance doppia, quindi, per i Biancorossi, che vincendo potrebbero allontanare ancora di più la zona rossa della classifica, ricacciando in basso una diretta concorrente verso l'obiettivo salvezza. Il fischio d'inizio è in programma per le ore 15 e Iacolino potrà contare su una rosa pressoché completa, fatta eccezione per Capellino, infortunato di lungo corso. Pienamente recuperato, invece, l'attaccante argentino Pablo Ezequiel Banegas, reduce da alcuni problemi alla caviglia. Il bomber della Pampa è un elemento importante per la rosa di mister Iacolino, prelevato dal Bra, dove lo scorso anno è realizzato 16 reti in 33 presenze. Banegas si è ritagliato il suo spazio anche in Serie C, dimostrando di valere i professionisti. Chissà che l'allenatore non decida di dargli subito fiducia e che questi possa ripagarla con una buona prestazione.